Non è una luna bellissima quella che transita nel segno del sagittario, una luna pesante da un punto di vista fisico e anche psicologico, dobbiamo dire, dedicata in questa giornata alla normale amministrazione, amici dei pesci, per quanto riguarda i progetti, quelli un po' più, diciamo così, importanti, che hanno bisogno magari anche di perfezionare degli accordi, hanno bisogno anche di consulenze esterne, li mandate ai prossimi giorni, quando magari avrete la possibilità di contattare anche qualcuno che se ne intende più di voi, in questa giornata abbiamo detto limitatevi alla normale amministrazione e anche nella coppia e in famiglia cercate di dare il meglio di voi stessi nelle piccole cose.